ecco chi la dura la vince tutta sbrindelata si dice a genova ce la posso fare tra un petardo e uno sbrindellamento lady ghost e lady sedaco salutano io invece pure buonasera allora 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 facciamo un po di storia del paranormale che di sti giorni mi viene più semplice che andare a caccia di argomenti sulle spiegazioni perché perché la storia del paranormale una volta che la conosci racconti la storia appunto accaduta che comunque serve tantissimo per farsi un'idea per capire sia in un certo senso l'invisibile il paranormale e sia anche per comprendere la mentalità umano terrena e come ragiona di fronte a certi fatti quindi fa parte comunque del bagaglio delle tematiche del mio canale ma è più semplice dicevo perché un conto è pensare a qualche accadimento storico paranormale o comunque collegato al paranormale e un altro è andare a caccia per gruppi forum e quant'altro per vedere quali sono gli argomenti meno compresi più interessanti che le persone hanno più necessità di conoscere di sapere di capire tutta un'altra cosa quindi dicevo anche la storia del paranormale per cui stasera per storia di paranormale voglio parlare del primo caso accettato da un tribunale europeo a seguito di accuse di omicidi nel quale l'attenuante sia stata diciamo così accettata per licantropia quindi questa storia è la storia del primo licantropo legalmente accettato da una giurisdizione europea e in particolare spagnola siamo la storia comincia nei primi del 1800 1809 per l'esattezza il 19 novembre nasce a reguero nel lorense il quinto figlio della famiglia blanco manuel branco romasanta conosciuto poi in seguito solo come manuel romasanta chi è come dicevo è il quinto figlio della famiglia di miguel blanco e della moglie romasanta di cognome manuel nasce in galizia e seppur sia considerato estremamente intelligente estremamente colto e istruito è molto bravo e preparato a livello di lavori di attenzione di precisione tanto che dall'adolescenza in poi terminati gli studi primari inizierà a lavorare come sarto e ricamatore manuel però non è propriamente normalissimo seppur sia esteticamente molto fine molto androgino biondo biondo che comunque se consideriamo la spagna del 1800 dove l'aspetto fisico delle persone era molto marcato sull'impronta mediterranea sull'impronta scura capelli scuri e diciamo che manuel dà un impatto un po' diverso chiarissimo occhi chiari appunto aspetto androgino che non si sa nemmeno definire se non lo si conosce o se non lo si vede quando ha la barba se sia maschio o femmina che abbia qualcosa che non va però lo si nota dall'altezza o meglio dalla bassezza che è di gran lunga inferiore all'altezza media anche dell'essere umano normale meno alto considerato nella fascia delle persone comunque sane manuel infatti è solamente un metro e 37 in età adulta all'altezza all'età di 22 anni e con appunto già un bagaglio di alcuni anni come sarto e ricamatore e già completamente adulto nel gestire la sua posizione e la sua vita si sposa la moglie però vivrà solamente un anno e quando manuel ha 23 anni la moglie viene a mancare di malattia non è specificato nei vari racconti in giro per internet quale malattia avesse comunque fin lì la vita di manuel prende diciamo una piega normale rimasto vedo praticamente subito decide di lasciare completamente la carriera di sarto e ricamatore e di darsi invece alla vendita ambulante è un periodo nel quale in europa spopolano i venditori ambulanti e tutti vendono di tutto tutti cercano di vendere la cosa miracolosa basti pensare al caso più eclatante più conosciuto in europa delle sorelle Sutherland e i loro intrugli per far crescere i capelli e diciamo che sullo stesso stile moltissimi ci provavano e moltissimi comunque decidevano di prendere questa questa mansione di gironzolare con un carretto e di vendere prodotti miracolosi oggettistica e quant'altro Manuel si stabilizza in diversi luoghi e paesi per alcuni tempi ma poi essendo un'ambulante riparte fa anche un altro lavoro accompagna le donne che devono attraversare luoghi impervi come boschi piccole foreste strade isolate e via dicendo da un posto all'altro dove devono andare fa l'accompagnatore a pagamento ma nel 1844 arriva su Manuel un'inchiesta e una richiesta di carcerazione a causa di un omicidio attribuitogli l'omicidio di un uomo è un procuratore distrettuale Vincent Fernandez e pochi giorni prima era proprio stato da Manuel per chiedergli di pagare alcuni oneri che aveva in conto alcune tasse alcune situazioni che doveva pagare subito dopo il loro incontro appunto Vincent era morto e l'accusa di omicidio era ricaduta proprio su Manuel Manuel allora cosa fa al processo viene condannato come omicida gli danno dieci anni di carcere Manuel però non ci sta non vuole perdere dieci anni in carcere e quindi evade cerca di scappare e va a rifugiarsi in un villaggio praticamente abbandonato che si chiama Ermida che si chiamava Ermida e rimane per moltissimi mesi in uno stato di completo isolamento nascosto e in compagnia solo di animali da pascolo e animali vari ed eventuali che giravano per questo paese ormai deserto dopo molti mesi di nascondiglio ad Ermida decide di crearsi dei documenti falsi e di tornare a fare il suo lavoro il venditore ambulante sotto un altro nome si fa quindi chiamare e si auto crea dei documenti nuovi con il nome di Antonio Gomez e con quel nome ricomincia il suo tram tram di prima gira per vari paesi e fa per un certo periodo il venditore ambulante come sempre e di nuovo l'accompagnatore di donne e persone diciamo che hanno necessità di essere accompagnate in luoghi impervi si stabilizza quindi in un paese per un certo periodo ha fissa dimora lascia da parte la vendita errante e inizia invece a fare il ricamatore un po' per i suoi modi fini e gentili un po' perché la il lavoro del ricamatore era considerato in spagna in quegli anni un lavoro prettamente femminile e un po' per le sue caratteristiche estetiche che seppur fosse un uomo di quasi 40 anni sembrava comunque una giovane ragazza esteticamente le donne e i bambini specialmente si fidavano particolarmente a farsi accompagnare da lui per questi tragitti iniziarono però le sparizioni sparizioni appunto di moltissime di queste donne e di alcuni bambini che avevano che erano partiti per determinati spostamenti accompagnati proprio da Manuel in principio la cosa non venne notata perché? perché in qualche modo Manuel riusciva a far arrivare o a far lasciare una lettera agli altri parenti di queste persone dove risultava scritto che in realtà quella data donna si era trasferita in un'altra città per lavoro aveva trovato un buon posto aveva trovato un fidanzato e quant'altro ma alla lunga i nodi vengono al pettine anche se una parente si sposta una sorella una zia una madre si sposta in un'altra città e lascia una lettera con su scritto io mi trasferisco che ne so a Barcellona perché ho trovato l'amore della mia vita per un po' ci credo poi non ti sento non ti vedo più mi informo mando richieste ti vengo a cercare stiamo comunque parlando della fine della prima metà del 1800 quindi i mezzi comunque esistono e si scopre che invece questa persona è sparita e una e due e tre alla fine tutti gli indizi portavano appunto ad Antonio Gomez ovvero Manuel Roma Santa di conseguenza la polizia locale inizia a investigare su Manuel inizia a investigare su Manuel fino ad arrivare a controllargli l'ambiente dove lui vive e a trovargli alcuni oggetti personali in casa di alcune delle persone scomparse questa sembra essere la prova schiacciante viene quindi arrestato e viene portato in carcere in attesa di giudizio sotto il torchio del tribunale che perpetrerà il suo processo per oltre un anno e ora stiamo parlando del 1852 verrà giudicato colpevole ammetterà lui stesso le sue colpe e gli verrà assegnata la pena di morte in attesa della pena di morte verrà rinchiuso al carcere scusate di Alariz ma la storia non finisce qui durante l'ultimo processo della sequela che gli venne fatta Manuel ammise tutti gli omicidi ne ammise 13 però dichiarò anche di essere stato dapprima stregato e quando il giudice gli chiese in che senso fosse stato stregato lui gli rispose di aver incontrato nei suoi viaggi nelle sue vendite in giro per la Spagna una donna che praticava le arti magiche e in una determinata circostanza lo aveva maledetto lui si era ritrovato poi in mezzo a una foresta e aveva iniziato a sentirsi male aveva iniziato ad avere forti vibrazioni a non reggersi in piedi giramenti di testa e aveva poi incrociato due lupi che lo guardavano mentre ancora mezzo stordito da questa vibrazione intensa che stava sentendo notava che i due lupi si avvicinavano a lui fino a guardarsi in un attimo di calma di stasi da questa agitazione che gli era presa e rendersi conto di essersi trasformato in un lupo anche lui dichiarò quindi che gli attacchi alle persone da quel momento in poi sarebbero avvenuti solo per fame nei momenti appunto di trasformazione licantropica ad avvalorare ancora di più questo suo racconto dichiarò che i due lupi che aveva trovato di fronte a sé una volta terminata la notte di luna piena notte unica notte nella quale si trasformavano li avrebbe visti anche a loro trasformarsi in due persone che sempre a detta sua per un certo periodo avevano poi eh diviso con lui questo triste fardello li chiamò Antonio e Don Gennaro e raccontò al giudice che appunto con Antonio e Don Gennaro nelle notti di luna piena aveva la necessità di andare a caccia e di nutrirsi delle sue vittime fosse perché questo Antonio e questo Don Gennaro non vennero mai né presi né trovati né riconosciuti fosse perché alcune delle vittime erano sparite in periodi nei quali la luna piena non c'è stava o fosse anche perché il giudice poco ci credeva alle maledizioni delle streghe in grado peraltro di trasformarti lo sbattè in galera con la sentenza di morte gli diedero quindi una sentenza alla Garrota la Garrota era forse una delle pene di morte peggiore in assoluto ma anche una delle più utilizzate appunto in Spagna e in Portogallo era una sedia particolare dove il condannato veniva seduto e legato in alcune Garrote con una corda in altre con una placca metallica e dietro c'era una vera e propria chiave con una vite che più veniva stretta più la Garrota stringeva il collo del condannato e uno spuntone che si trovava dietro all'appoggio del cranio penetrava scatto dopo scatto all'interno della testa fino a ucciderlo ma la storia non finisce qui perché in suo caso fece abbastanza clamore e venne riportato da vari giornali per tutta la Spagna e anche oltre la Spagna oltre i confini o i miei attacchi di sonno e venne preso in esame da diversi psicologi e psichiatri è anche un periodo nel quale si fa un'enorme distinzione tra l'alicantropia folcloristica paranormale e quant'altro e l'alicantropia clinica l'alicantropia l'alicantropia clinica veniva associata alla schizofrenia alle psicosi e ad altre problematiche psichiatriche e veniva largamente studiata un noto abbastanza noto ipnotista e psicologo psichiatrico del periodo interessato al racconto e al caso proprio di Roma Santa chiese il permesso di poterlo ipnotizzare e di poterlo studiare di poter capire la sua mente per fare ciò scrisse persino alla regina Isabella II la regina diede il suo benestare interessata forse alla particolarità del caso e intercesse per Roma Santa allo scopo di non farlo giustiziare ma di farlo prima appunto studiare dall'ipnotista dopo una serie di visite al carcere di Alariz da parte dello psichiatra ipnotista venne decretato che invece Manuel soffrisse proprio di licantropia clinica ovvero lo psichiatra dichiarò che non aveva nessuna forma di trasformazione da maledizione o cose prettamente paranormali ma era comunque realmente affetto dalla psicosi della licantropia quindi a livello psichiatrico era un malato di mente convinto di trasformarsi convinto di essere un vero e proprio licantropo la difesa quindi colse la palla al balzo per chiedere uno sconto di pena rispetto alla pena di morte che gli era stata data e il tribunale a quel punto dovette accettare appunto per problematiche psichiatriche non gli venne però risparmiato l'ergastolo entrò in ergastolo nel 1852 appunto alla fine di tutta questa situazione giudiziaria e la sua morte rimane un po' nella leggenda perché perché in realtà saltarono fuori tre documenti differenti che lo vedevano morto sia dopo un anno nel 1853 sempre al carcere di Alariz che lo vedevano morto nel 1860 in un altro carcere e che lo vedevano morto nel 1854 mi pare in una villa considerata pseudo clinica psichiatrica la verità sulla sua morte ancora oggi non la si conosce ma in tutta la Spagna è conosciuto ed è tra virgolette famoso nella storia della Spagna come il primo caso di licantropia accettato come attenuante a un processo noi non sappiamo se il signor Manuel Roma Santa fosse realmente un licantropo o fosse realmente un malato di licantropia clinica o ancora non fosse nulla e avesse invece inscenato tutta questa situazione proprio nel disperato tentativo una volta preso di avere una qualche attenuante e un qualche appiglio per salvare la propria vita ma il fatto che se un ente come un tribunale durante un processo penale dia comunque accetti comunque una sorta di patteggiamento preposto su una questione come la licantropia seppur fosse stata in parte dichiarata licantropia clinica è estremamente importante da conoscere e da sapere anche per chi studia il paranormale un po' come eh l'altro caso della polizia sempre in spagna mi pare che aveva assistito ai fenomeni di una determinata famiglia e che aveva proprio dichiarato nelle sue eh presenziazioni agli eventi paranormali di quella casa che realmente stavano accadendo ecco quando le cose in qualche modo legate al paranormale vengono anche classificate nelle eh dichiarazioni ufficiali di indagini di processi vengono messi agli atti in qualche modo sia nella storia dell'uomo in generale un un appiglio di credenza un appiglio di possibilità maggiore al fatto che certe tematiche da qualcuno per fortuna vengano ancora prese in qualche modo in maniera seria in maniera razionale come delle possibilità e non come dei semplici vaneggiamenti e io sono estremamente ben disposta verso questo tipo di situazioni non ovviamente l'omicidio del licantropo o non è tanto la scusa o non scusa che ha trovato roma santa perché che roma santa non fosse nulla che roma santa fosse un licantropo vero e proprio colpito dalla maledizione della strega che l'ha incontrato per strada gli stava sullo stomaco e l'ha maledetto così oggi non so cosa fare ma le dico il primo che passa o che fosse realmente convinto di essere licantropo e quindi soffrisse in realtà della patologia psichiatrica della licantropia clinica questo è poco importante quello che invece è importante da un punto di vista di ricerca e di eh tentativo proprio di apertura mentale ai più sul mondo del paranormale quello che è importante è proprio il fatto che un tribunale abbia accettato quella postilla e quindi abbia scritto materialmente su dei documenti ufficiali che l'attenuante era la dichiarazione di licantropia questo è estremamente importante dal mio punto di vista ovviamente che faccio parte di quelle persone che cerca di far capire questo mondo ma cerca anche di far aprire il pensiero su questo mondo e su tutto ciò che lo riguarda dai suoi misteri in primis questa era la storia di Manuel Rodina Santa ci possono essere in giro per il web qualche notizia in più magari i paesi dove si era stanziato io non ho trovato ma non ho neanche fatto ricerche questa è una storia che so da parecchio ma non sono andata tanto a caccia di nozioni perché non c'ho tempo altrimenti magari avrei anche avuto due nomi di paesi in più ma i paesi poco contano alla fine dei fatti quello che conta è ciò che è successo nella storia e poi ripeto le mie storie sono le mie storie del paranormale sono semplicemente per far per insegnare maggiormente a collegare gli eventi a collegare le nozioni che si possono attingere in giro ad analizzarle in maniera eh aperta senza pregiudizi e poi attrarre le proprie personali conclusioni detto questo ah ah io Lady Costa Lady Salacco risaluta non lo so un attimo dicevo io vi ricordo che qua sotto ci sono tutti i link dei vari social dove mi trovate un po' più giù in fondo a destra ma non come il cesso no in fondo e basta non in fondo a destra tre o quattro dei mille mila link che tengono in vendita i miei libri stanno continuando ad andare che è una bellezza e di questo io non so mai quanto e come ringraziarvi spero vivamente di portare a termine il mio compito in questo caso da scrittrice e non da oratrice di far uscire il secondo volume di testimonianze di una vita cioè il volume 2 perché sono sono ricercata non dalla polizia ma da chi vuole leggere il numero 2 e quindi ha da usci ce la posso farcela quella sono le 10 di sera non ci posso credere ho ancora sì e no un'oretta per fare tre quattro cinque mille cose che devo ancora finire ma anche anche in questo frangente ce la posso farcela ciao 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 ciao